Sì, in realtà non l'ho fatto apposta, stavo dormendo, non lo sai, non sarei mai andato a comprare, siamo coppia ormai da tanto, ma che mi sono coppia? Ho capito, quindi non lo faccio indifferenziata, non ti preoccupare, vorrei che questo ci porti qualche dito, perché sai, siamo più campioni di coppia.